è un momento questo l'aggettivo ci pensiamo dopo vedete anche voi quando l'ho visto mi è venuto male è bloccato dalla crescita del lato aiuto ho paura di romperlo qui bisogna fare un intervento importante perché se no si rompe l'albero perché c'è l'albero sopra o spostiamo l'albero ma la vedo dura o ci vuole l'intervento di alle che scava ecco forse ci siamo bisogna scavare lì sotto ecco ecco aiuto ragazzi questa è un'opera archeologica ecco ecco forse ci siamo aiuto ecco ecco è incastrato ragazzi vieni sposta qui i ramali spingi i ramali ecco ecco dai ecco ecco ce l'ho fatta ragazzi aiuto mamma mia che roba ragazzi non riesco più a dire niente non dico niente ti intervisto qualcosa guardate mamma mia è pesante che momento che momento ecco bravo che emozione cosa dire non dico niente non dico niente allora ragazzi momento molto emozionante guardate questo qua ma Dio mio come sei bello ecco questi ragazzi sono più belli in assoluto ma che cosa è perfetto ma che cosa è perfetto è perfetto è perfetto questo è bellissimo è bellissimo questo da sti serata e c'è anche un altro qua questo da sti serata vediamo vediamo questo sottolato è pieno eccolo qua guardate che bel momento questo momento bellissimo che meraviglia faggio alto tutto abbastanza ripido qui ragazzi abbiamo un ritorno un ritorno a cosa secondo me è un ritorno a perfezione vediamo se vediamo uuuuuh ragazzi mi sono sbagliato non è perfetto è un po' più di perfetto questo uuuuuh mamma mamma un po' più di perfetto guardate che bianco aiuto ragazzi la pelle d'oca che emozione questi porcini emozionano al 100% ragazzi un momento magico guardate meraviglia 1 e splendore vediamo il splendore ma come sei bello che meraviglia che meraviglia ragazzi che meraviglia che emozione vediamo vediamo il tiziotello qua vieni il tiziotello qua fatti vedere ma come sei bello ma come sei bello benissimo ciccioni ciccioni wow ancora questo che meraviglia che meraviglia che meraviglia che meraviglia è un po' vediamo un po' questo oggetto vieni 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 direi che ci siamo ragazzi soffiatina che meraviglia che meraviglia che meraviglia che meraviglia entriamo dentro il porcino riusciremo a entrare qua mi sa che c'è un oggetto di quelli importanti vediamo un po' oh mamma mia che meraviglia che meraviglia eh si direi un oggetto importante davvero mamma mia che meraviglia ma sei bellissima sei bellissima i ciccioni siamo ancora nel paradiso uno dei posti più belli del paradiso questo guardate che mamma mia ho detto quando l'ho visto mamma mia volontà l'aggettivo di questo è mamma mia spettacolo è spettacolo bellissimo eppure pesante chiudo eppure pesante metà un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti.